Abbiamo attività per disabili e nonne, ma diciamo che la parola è l'inclusione. Oltre 20 discipline sportive per tutti al Parco Novi Sad di Modena, organizzato da WISP e CIP. Tra gli ospiti Valentina Petrillo, l'atleta ipovedente, prima transgender al mondo, a gareggiare a Parigi ad una Paralimpiade. Prima di iniziare le Paralimpiade sei stata attaccata sui social, associandoti al caso della puggere algerina. Non c'è relazione, però come l'hai vissuto? L'ho vissuto come un anticipo di quello che poi sarebbe successo anche a me, quindi un anticipo di polemiche. Eri un po' condizionata dal fatto che se avessi vinto le polemiche sarebbero aumentate? Beh, sì, sì. Ero molto condizionata da questo, tant'è vero che ho sempre pensato cosa farò se vincerò una medaglia, e soprattutto se questa medaglia fosse d'oro. Avevo già in mente, diciamo, un piano B della mia vita. Quale sarebbe stato il piano B? Sicuramente avrei dovuto trovare un altro posto dove andare, per esempio, avrei chiesto a Malta di ospitarmi. Saresti andato via dell'Italia se avessi vinto? Sì, la mia idea era quella. Sinceramente avevo paura di rimanere qui e ci pensavo spesso, purtroppo, a questo. è una cosa triste, però fa parte della realtà.